allora come promesso ho detto che oggi avrei parlato dei denti io volevo dire che un po di tempo fa avevo fatto una collana sulla pagina di da non fare l'ho stampato adesso ve lo leggo perché era molto interessante ma con tutta quella roba che ho scritto in questi quattro anni forse vi è vi è mancato quindi adesso inizio è sulla pagina nelle note di 2-3 anni fa però ve lo leggo un po di pazienza perché è tanto ok quindi per i denti allora dico leggete sentimi sempre i sintomi della malattia ricordate per non aumentare lo stress perché siete allergici allo stress giocando di anticipo anche sui problemi dei denti e della mandibola potete evitarvi di conseguenza ulteriori dolori e ingenti spese mediche da non fare perché la collana si chiamava da non fare sottovalutare il sintomo molto comune del digregnamento dei denti durante la notte digregnare i denti oppure il bruzzismo può causare un'erosione dei denti che vi lascerà con pezzetti di denti oppure con i denti che si scheggiano perdono pezzi o dovranno essere ricostruiti il bruzzismo può anche facilmente fare sorgere le carie in quanto lo smalto dei denti diventa più sottile e meno protettivo da non fare non rendetevi conto che molto stress dalla vita lo potrete sentire nelle tensioni dei muscoli della mandibola se vi svegliate con la mandibola bloccata che scricchiola che dovete liberare manualmente e guarda che c'è gente che deve di mattina così mettere a in azione la mandibola e liberare manualmente per iniziare a muoverla che spinge i denti in avanti con i muscoli della mascella o del collo addolorante o stanchi oppure vi svegliate sempre con un mal di testa può darsi che sta stiate soffrendo del sindrome temporomandibolare esiste anche la mandibola mobile come esiste anche la spalla mobile di questo vi avevo parlato anche nel video dei sintomi così in cui i muscoli della mandibola sono l'asse per contrastare questo sintomo ordinare cercate di ordinare un paio su misura dal dentista oppure dalla farmacia più economico e meno efficace però le esigenze economiche determinano cosa cosa facciamo no da usare di notte per evitare queste queste problematiche fatte un bagno caldo prima di coricarvi provate la respirazione profonda prima di dormire per rilassarvi provate dei massaggi anti stress del cranio faccia e se siete lo scritto tempo fa se siete a verona e io li faccio al centro bernstein sono fantastici io andavo lì mi facevano i massaggi dei muscoli della faccia potete anche farlo anche voi per sciogliere sciogliere le tensioni della delle fasce di muscoli che circondano il cranio e rilassare i muscoli della mandibola e parlate con dentista o medico riguardo l'assunzione di magnesio antistress e lo stress fa deperire sempre le scorte di questo elemento che questo è anche il grande motivo per cui noi siamo sempre carenti di vitamine amminoacidi da non fare non notare le gengive che si ristringono guardate sempre con cura mentre state combattendo la malattia ricordate che avete un sistema immunitario compromesso e che lo stress vi rende sempre carente di nutrienti e minerali necessari per una bocca sana e che l'infiammazione lo sristringimento delle gengive e del loro insanguinamento può essere conseguenza di una proliferazione batterica e l'acidità combattete e provate a prevenire adottando dei sani abitudini tipo spazzolare dopo ogni pasto in aggiunto alla spazzolino è tradizionale io uso anche quello rotante per una pulizia profonda che è fantastico cinque minuti almeno ed in modo molto delicato massaggiare gentilmente le gengive con lo spazzolino in modo molto delicato usare il filo interdentale con l'azione su e giù così e non avanti indietro e io personalmente ho usato anche l'olmo rubra che sarebbe l'olmo rosso che voi avete visto anche nel mio protocollo corteccia formidabile ovviamente preso in capsule non è venduto in italia quindi non ne parlo spesso però si può anche ordinare via online parlate sempre con il vostro medico che rigenera l'intestino l'intestino permeabile ricordate è di tessuti della bocca ha delle proprietà antibatterici che riduce le infiammazioni state lontani dalla menta in quanto sostanza irritante infiammante per voi quindi niente garismi collutori commerciali da non fare non andare dal dentista se vedete che i denti e si spostano oppure si rottono si si rottono su loro stessi così oppure così quindi se avete creato dello spazio in bocca e spingendo i denti durante la notte con il digregnamento o con la pressione mandibolare è probabile che ci sia più spazio tra i denti e che iniziano anche a rottare e a spostarsi quindi c'è da dire da non fare però c'è da fare quindi andate dal dentista da non fare dimenticare di dire al vostro del dentista che avete la fibromialgia avete una patologia seria con un professionista serio deve prendersi in considerazione questo fatto potete avere una diminuita risposta all'anestesia oppure necessitare dell'anestesia in più del normale perché in mezzo all'intervento potete sentire di nuovo il dolore e questo è successo probabilmente a tantissimi di voi e avete sentito il dentista che diceva come me che ho fatto un intervento e il dentista diceva ma tu stai simulando non è possibile che hai tutto questo dolore qua ma non è proprio possibile che ti abbiamo dato tre dosi da cavallo tu non dovresti sentire niente sì a quel punto lì non sapevo che avesse avevo la fibromialgia e quindi poi sono uscita pensando allora sono io che sto reagendo un po troppo il dentista dovrà sapere del perché di grignate se avete la mandibola che si blocca che certi dolori alla bocca e i denti come nella nevralgia del trigemino possono essere causati dalla fibromialgia quindi il vostro dentista deve essere informato no da non fare mantenere un dentista che non crede nella malattia scappate se sentite l'ormai famosa frase campione di ottosità e di incompetenza la malattia non esiste ne pensa che né che lui pensa che la malattia non influisce sui dolori e che non dovrebbe condizionare il suo metodo del lavoro voi non siete un paziente come tutti gli altri e un qualsiasi professionista che lavora con un fibromialgico dovrà aggiornarsi e trattarlo con il dovuto rispetto e cura siete voi il cliente perché spesso le persone mi raccontano delle storie e io dico ma era gratis questo trattamento qua per quale motivo vi siete lasciati trattare così no pagato anche fiori di quattrini allora pretendete che questo professionista vi ascolta e si adegua se non è così cambiate dentista perché incrementare la vostra frustrazione e dolore da non fare ignorare che forse dovete visitare un posturologo non chiropratico per correggere eventuali squilibri di postura dovuto alle tensioni accumulate a causa degli effetti delle errate chiusura della bocca anche quando il vostro bite sarà corretto si potranno si potranno essere formati degli squilibri di postura spostamento dall'anca appoggio piedi le spalle che potrebbero causare dolori alle ginocchie alle anche le spalle o comunque un po anche mal di testa un po in tutti i sensi quindi questo era il mio lettura di un post di un paio di anni fa dei denti sempre attuali perché ce le avete ancora vero i denti scherzo quindi andiamo avanti andiamo avanti e ricordate di focalizzare io ci sarò domani con qualcos'altro di veramente importante e mi raccomando andate avanti si esce si esce si esce grazie a tutti